Come ti chiami? Lorenzo Poggi, agente immobiliare. Come sei venuto a conoscenza del corso di oggi? Tramite Facebook. Ho visto varie video di Paolo e mi ha incuriosito molto. Era la tua prima esperienza nel video marketing? Hai già fatto video? Primissima esperienza. Ti è piaciuta? Molto. La metterai in pratica? Sì, sono proprio convinto al cento per cento. Domanda finale, corso promosso o corso bocciato? Promosso. Promosso, grazie. Grazie mille. Grazie a te. Grazie a tutti.